Buongiorno a tutti amici, come state? Ben trovati! Oggi qui a Roma è il tempo un po' bruttino, però noi ci consoleremo con una ricettina dolce. Andiamo a prepararla insieme! A questo punto, aiutandomi con le fruste con le quali ho montato le chiare, vado a mescolare tutti gli ingredienti, aggiungendo il latte necessario a rendere il composto della morbidezza giusta. Ecco pronti i nostri muffin che facciamo freddare. Ecco qua cari amici, i nostri muffin light sono terminati. Ecco qua amici, pronti i nostri muffin light. Vi assicuro sono morbidissimi e gustosissimi. Come vedete sono morbidissimi. Ci potrete fare colazione e questo grazie alla mia cara dottoressa Hortensia Giunta che mi ha suggerito questa ricetta. Spero che la gustiate e vi garantisco che è buonissima, anche per chi non è a dieta e vuole magari mantenere un'alimentazione sana. Comunque vi ricordo in alto a destra nel video il link per un'altra ricetta. Vi chiedo di iscrivervi al canale e soprattutto di mettere tanti like. Passate nei commenti e se avete qualche richiesta scrivete, vi risponderò al più presto ed esaudirò al più presto la vostra richiesta. Un saluto a tutti, a presto!